Il vaccino contro il Covid si ha per tutti e l'appello del Papa che aggiunge l'emergenza sanitaria è diventata anche una grave crisi economica. Bisogna garantire che tutti si possano curare nel Tg l'esperienza del banco farmaceutico. Il Covid in Italia 1638 i nuovi positivi e impennata di vittime 24 nell'ultima giornata record di casi in Germania la Spagna chiude alcune zone rosse a Madrid mentre a Londra si scatenano proteste anti lockdown. Sirio speranza e coraggio la storia di un bambino nato prematuro e affetto da una tetraplesi spastica che oggi con lo zaino pieno di tenacia ha varcato da solo la soglia della sua scuola immagini che commuovono e incoraggiano. Stadi di nuovo aperti al pubblico campionato partito oggi di nuovo con i tifosi sugli spalti accesso garantito solo a mille persone ma è caos sulle regole polemica tra Lega di Serie A e governo. Il 20 settembre di 150 anni fa le truppe italiane conquistavano Roma la breccia di Porta Pia concludeva il processo di unificazione nazionale e metteva fine al potere temporale dei pontefici. Buonasera ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In apertura dunque il forte richiamo di Papa Francesco affinché il vaccino contro il Covid sia un bene universale da distribuire a tutti. Sarebbe triste ha detto se venisse fornito prima ai ricchi. Il servizio di Paolo Fucili. Dato che di coronavirus sono morte già quasi un milione di persone rammenta il Papa. Sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi. O se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella nazione e non fosse più per tutti. Dovrà essere universale per tutti. Di fronte al pericolo dell'indifferenza globalizzata globalizziamo anche la cura. Si raccomanda Francesco all'udienza di oggi al Banco Farmaceutico. Parla di povertà farmaceutica come divario fra popoli e nazioni che ancora uccide troppi bambini nel mondo. Ma se è una malattia si può curare perché il farmaco o vaccino c'è? Questo dovrebbe essere disponibile per tutti altrimenti si crea un'ingiustizia. È dalla sua fondazione nel 2000 che il banco fornisce medicinali a chi ne ha bisogno raccolti e distribuiti mettendo in rete aziende, farmacie, i volontari del banco ed enti di beneficenza. Tutti alle prese ora con la pandemia che il Papa avverte per incoraggiarli. Si sta tramutando in una grave crisi economica che genera ancora poveri e famiglie che non sanno come andare avanti. Un'emergenza sanitaria che si è tramutata in grave crisi economica, lo ha detto il Papa, disoccupazione, povertà e anche difficoltà a curarsi. Sentiamo allora l'esperienza dei volontari del Banco Farmaceutico ricevuti questa mattina dal Papa che forniscono gratuitamente le medicine a chi non può permettersele. ci preoccupa il fatto che ci sia un'onda lunga quando cesserà il blocco dei licenziamenti, quando la cassa integrazione fin quando durerà. La Caritas per esempio da noi già ci dice che si aspetta un cambiamento verso l'autunno dove davvero emergeranno nuovi bisogni, un aumento dei bisogni. Sempre di più sono le persone che fanno ricorso a noi per richiederci farmaci che normalmente non sono forniti dalla mutua e che quindi devono essere acquistati. Se uno ha mal di denti è una patologia minore per il servizio sanitario che si occupa giustamente di tumori, ma se hai il mal di denti, il mal di denti ce l'hai, hai bisogno di comprarti un analgesico e se non hai i soldi. Tra l'altro se sei povero non hai fatto neanche prevenzione. Come ci ha ricordato oggi il Papa esiste un problema veramente di povertà anche farmaceutica e sanitaria che non è banale. E tornano a calare i nuovi positivi al Covid in Italia circa 1600 nelle ultime 24 ore, ma si registra però un'impennata di vittime 24 e la maggior parte sono in Lombardia. Facciamo il punto con Letizia Davoli. Continua ad oscillare tra lievi aumenti e lievi cali il numero dei positivi in Italia. Dopo il picco di ieri oltre 1900 contagi, oggi il numero si ferma a 1638 con 103 mila tamponi effettuati. Sale il numero dei morti 23 contro i 10 di venerdì, 215 i malati in terapia intensiva. Ma a 24 ore dall'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha aumentato il livello di allerta nel nostro paese, sembrano esplodere in tutta Italia nuovi focolai che si aggiungono agli oltre 2000 censitiglieri. Dal mercato del pesce di formia alla cittadina di Bagheria in Sicilia, il virus sembra essere tornato più minaccioso di prima. Solo a Roma l'ospedale Spallanzani sono 93 i pazienti in osservazione e 10 in terapia intensiva. E se non è possibile ipotizzare una nuova chiusura totale nazionale, iniziano però ad essere definite le prime zone rosse, quelle dove i contagi esplodono senza controllo e da cui è vietato entrare o uscire. La più grave, che ha richiesto la presenza delle forze dell'ordine, si trova a Palermo, nella missione di Biagio Conte. Il 60% degli ospiti, migranti e senza fissa dimora sono positivi ma rifiutano di restare confinati nel centro, mentre due missionari sono dovuti ricorrere alle cure dei medici e si trovano in ospedale con un principio di polmonite. Gli scienziati ribadiscono che non siamo ancora a livello di contagi degli altri paesi europei, ma allo stesso tempo invitano ad essere rigorosi sull'uso degli unici strumenti di difesa che al momento possono evitare una nuova catastrofe, mascherine, igiene e distanziamento. Il Covid nel mondo, record di casi in Germania, la Spagna chiude alcune zone della capitale mentre a Londra si scatenano proteste anti-lockdown. Antonio Soviero. Corre il contagio in Spagna, 14.000 i nuovi casi di ieri e così da lunedì scatteranno nuove restrizioni in 37 zone più povere della regione di Madrid, dove il tasso di diffusione è il doppio della media nazionale. L'accesso ai parchi e alle aree pubbliche sarà limitato e gli esercizi commerciali dovranno chiudere entro le 22. La polizia sarà schierata in strada per far rispettare le nuove disposizioni che riguarderanno 855.000 persone. La gente non obbedirà alle restrizioni, afferma Lola. Molte persone non hanno nemmeno un libretto bancario. Come faranno a pagare le multe se a malapena hanno qualcosa da mangiare? È assurdo. Il contagio corre in tutta Europa. In Francia registrati 13.000 nuovi casi. Positivo anche il ministro dell'economia Bruno Le Maire. Infezioni in crescita anche in Gran Bretagna, più 4.322 nelle ultime 24 ore. In rialzo anche i morti e i ricoveri in ospedale. A Londra uno migliaio di persone manifesta contro il lockdown, mentre in Germania è record di casi dal 24 aprile. Nel mondo sono 30 milioni e mezzo i contagiati e più di 953.000 i morti. Col trend attuale le vittime saranno presto un milione. In testa sempre Stati Uniti, Brasile e India che insieme hanno più della metà dei casi Covid-19 totali. E proprio negli Stati Uniti in cui si registrano più di 6 milioni e mezzo di contagi, oggi si piange anche la scomparsa della giurista paladina dei diritti delle donne. Marco Burini. Neanche il tempo di celebrarla come si deve che già monta la polemica negli Stati Uniti. Perché la morte della giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, paladina delle donne e delle minoranze, arriva a ridosso delle presidenziali. E adesso la domanda che tutti si fanno è, Trump nominerà un altro giudice immediatamente o aspetterà, come gli chiedono molti dal predecessore Obama allo sfidante Biden. La stessa Ginsburg, morta di tumore al pancreas a 87 anni, come ultima volontà aveva chiesto di non essere sostituita prima del voto del 3 novembre, ma per Trump è un'occasione enorme. La Corte Suprema è già sbilanciata, cinque conservatori e tre progressisti. E se Trump dovesse pescare dalla ventina di candidati di cui ha parlato giorni fa, il massimo organo giudiziario del Paese, che decide se una legge rispetta la Costituzione oppure no, andrebbe ancora più a destra. Con conseguenze a lungo termine, i giudici sono a vita e il suo ruolo è sempre più centrale. La Corte Suprema non può risolvere tutte le controversie morali e non dovrebbe provarci, ha scritto poche settimane fa America, la rivista dei gesuiti americani. Ma dalla storica sentenza sull'aborto del 1973 a oggi, è tutto un crescendo di interventi su libertà religiosa, libertà personali e via dicendo. A proposito, il secondo emendamento della Costituzione garantisce il diritto di possedere armi, e molti ne approfittano. A Rochester, stato di New York, c'è stata una sparatoria a una festa, due morti e 14 feriti, cronaca quotidiana per un Paese con più armi che cittadini. Italia al voto con vigilia nel caos. Oggi tanti scrutatori hanno rinunciato ad aprire i seggi per paura del Covid. Il Comune di Milano ha lanciato addirittura un appello via social per reclutarne nuovi. Domani e lunedì comunque le urne saranno aperte per le elezioni regionali e referendum. Augusto Cantelli. Tutto in due giorni, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, urne aperte per referendum confermativo, voto regionale, amministrative e suppletive in Sardegna e Veneto. Sono oltre 46 milioni e mezzo gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale che prevede la diminuzione del numero dei parlamentari. Il taglio approvato in Parlamento a ottobre dovrà essere confermato dal voto popolare. I parlamentari al momento sono 945. In caso di vittoria dei sì, il numero scenderebbe a 600, ovvero a 400 deputati e 200 senatori. Il referendum è confermativo, si vota cioè per confermare o meno il taglio di 345 parlamentari. Non c'è quindi la richiesta di alcun quorum. Si vota anche in 7 regioni, una statuto speciale la Valle d'Aosta che legge il Consiglio regionale 6 a statuto ordinario Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Diventano presidenti di regioni candidati che prendono un voto in più degli altri tranne in Toscana dove è previsto un ballottaggio se nessuno ottiene almeno il 40%. Prevista la preferenza di genere e, a parte le Marche, il voto disgiunto sia la possibilità di scegliere una lista insieme un candidato presidente di un'altra coalizione. Al voto anche circa mille comuni tra cui 15 capoluoghi di provincia e 3 di regione, gli appuntamenti più attesi Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano, Arezzo e Matera. Oltre al documento e alla tessera elettorale, questa volta si deve portare anche la mascherina, le persone anziane più deboli potranno saltare la fila ai seggi. A Como adesso, dove Cardinal Krajewski ha presieduto la celebrazione in suffraggio di Don Roberto, il sacerdote ucciso a coltellate da un senza tetto, ed è anche all'assassino di Don Roberto che le lemosiniere del Papa ha donato un rosario. Pierluigi Vito. Don Roberto è morto, quindi vive. L'amore non muore mai. È venuto dal Vaticano a portare la vicinanza del Papa il Cardinale Krajewski. Lui, l'esecutore delle opere di carità del Pontefice, ha presieduto la celebrazione eucaristica in suffraggio di Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi, ucciso martedì mattina pare da una persona a cui il sacerdote prestava abitualmente aiuto. Gremita per quanto possibile la cattedrale di Como, tanta gente si è radunata ai Maxi Schermi in tre piazze della città per onorare la vita e la morte di chi ha fatto dei poveri il cuore del proprio ministero, con una serenità e una semplicità invidiabili, come è ricordato nell'Omelia il Vescovo Cantoni. Il suo sacrificio d'amore spalanca alla Chiesa e a tutta la società la possibilità di una straordinaria, inimmaginabile fecondità che tocca a noi tutti però sviluppare con determinato coraggio evangelico perché l'esempio di Don Roberto non sia vano. Oltre all'omaggio del Papa, il Cardinal Krajewski ha portato anche dei rosari. Andranno ai volontari che continueranno l'opera di assistenza di Don Roberto, ai bisognosi, compreso anche il presunto assassino ora in carcere, e ai familiari del sacerdote ucciso. Lo stesso Cardinale lo ha portato ai genitori di Don Roberto, impossibilitati a partecipare alla messa. Dopo la celebrazione vado al vostro paese a portare ai vostri genitori e a baciare le mani al nome del Santo Padre. E a 30 anni dal suo assassino oggi è stato ricordato dalle massime autorità dello Stato il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia per il quale è alla fase romana il processo di canonizzazione. Caterina Dall'Olio. La magistratura grigentina ricorda la figura del giudice Rosario Livatino in occasione del trentesimo anniversario della sua uccisione. Nell'aula del Tribunale che porta il suo nome sono intervenuti, fra gli altri, anche il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, che sta seguendo in prima persona il processo di beatificazione del giudice bambino. Aveva appena compiuto 37 anni, infatti, quando la Ford Fiesta, su cui viaggiava per raggiungere il Tribunale, venne affiancata da un commando mafioso di quattro sicari, assassinato a sangue freddo perché le sue indagini stavano dando fastidio alle cosche di Porta Empedocle e di altre organizzazioni come la Stidda, in contrasto con Cosa Nostra. Quando oggi si parla di crisi di credibilità della magistratura, comprensibilmente se ne parla, però io credo che sia opportuno per tutti i cittadini ricordare che cosa ha rappresentato e rappresenta la magistratura in termine di baluardo di difesa della libertà, della democrazia, quello che ha rappresentato la magistratura nella rotta alla mafia, nella rotta al terrorismo, nell'applicazione concreta dei principi della nostra Costituzione. Un periodo, quello a cui fa riferimento di Matteo, in parte ancora oscuro. Ogni anno arrivano poche scarne informazioni in più che non bastano a completare il quadro. C'è ancora da fare uno sforzo, capire chi c'è dietro delitti eccellenti, stragi eccellenti, fare ancora uno sforzo per democratizzare la conoscenza di questo paese. Diventa definitiva l'espulsione per gravi violazioni del codice etico di Luca Palamara dall'Associazione Nazionale Magistrati. L'Assemblea degli Iscritti al Sindacato delle Toghe, riunita a ranghi ridotti, ha confermato il provvedimento del Comitato Direttivo Centrale, bocciando il ricorso del pubblico ministero, sospeso da funzioni e stipendio e imputato per corruzione. Le decisioni della giustizia vanno rispettate, il commento di Palamara, ma ribadisco di non avere mai barattato la mia funzione. L'isola di Lesbo, cambiamo argomento, in Grecia è diventata una prigione per i migranti scampati all'incendio del campo di Moria ad inizio settembre. Sentiamo Maurizio Dischino. Teloni al vento, materassi, indumenti lacerati, tracce di vite in fuga che ancora non approdano alla terra dove coltivare la speranza di un futuro lontano da povertà, guerre e persecuzioni. A Lesbo, isola della Grecia, i migranti provenienti per lo più da paesi asiatici pian piano stanno lasciando la strada dove si erano accampati dopo l'incendio che nella notte tra l'8 e il 9 settembre scorso, ha distrutto il campo di Moria che le ospitava. L'ingresso alla città di Mitilene per loro è sbarrato. Per le autorità greche non possono lasciare l'isola. Al momento è consentito alloggiare soltanto nel nuovo campo allestito a Karatepe, sempre sull'isola di Lesbo. 9.000 persone si sono trasferite nella struttura, ha fatto sapere l'agenzia Reuters. Tra DS214 ci sono risultate positive al coronavirus. Altri 1.500 migranti saranno accolti dalla Germania. Il campo di Moria è stato allestito nel 2015 per 2.000 persone, ma ne ha ospitate fino a 13.000. L'Unione Europea lo aveva pensato come centro dove identificare i migranti arrivati dalla Turchia prima di un ricollocamento in Europa, ma il programma di reinsediamento è stato sospeso. Inoltre nel gennaio scorso la Grecia ha introdotto norme che ostacolano più che favorire la richiesta di asilo. Di fatto l'isola di Lesbo si è rivelata una prigione a cielo aperto anziché un campo di accoglienza per un futuro migliore. A Roma adesso per raccontarvi la storia di Sirio, un bambino nato prematuro affetto da una grave tetraparesi che oggi è entrato a scuola da solo e le immagini in classe hanno commosso il web. Nicola Ferrante. A chi si è lamentato della fatica del primo giorno di scuola, a chi negli ultimi tempi si è paralizzato per le incognite del virus, a chi ha temuto il ritorno sui banchi dopo sei mesi, a tutti loro, quindi un po' a tutti noi, sembra parlare la storia di Sirio suggerendo una bella scrollata di dosso, dalle troppe paure invitando a slanci più coraggiosi. A sette anni Sirio e quando è nato gravemente prematuro pesava appena un chilo e tre, perfino i medici pensavano sarebbe rimasto in stato vegetativo persistente. Invece lui adesso cammina da solo e ha intrapreso un percorso costante di autonomia e di libertà, come dimostrano queste immagini tratte dal blog dedicato a lui che racconta su Facebook questa storia di tenacia e tenerezza. Sirio che apre l'ascensore, Sirio che trascina il suo zaino verso la scuola, Sirio che non s'arrende per questo commuove e conquista. Lui ce la mette tutta, sostenuto da mamma e papà che fanno squadra insieme contro la tetra paresi spastica. Sirio faccia avanti! E se ti specchi come fai? Non importa quanto tempo richiederà, quanta fatica servirà, Sirio e il suo zaino ci ricordano che qualunque sia il peso che ci portiamo dietro, più forte se lo vogliamo e la gioia che ci spinge a camminare. Sirio! Si celebra domani la tredicesima giornata nazionale sulla sclerosi laterale amiotrofica, una giornata che illuminerà di verde il colore della speranza tantissime città italiane. Fabio Bolzetta. Una luce verde per illuminare la speranza. Dal Tempio di Atena, nel sito archeologico di Pestum, sino alla Fontana del Tritone a Roma. In collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, centinaia di monumenti in tutta Italia si accenderanno questa notte, alla vigilia della tredicesima giornata nazionale sulla SLA, promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il verde, oltre a essere il colore di Aisla, fondata 37 anni fa e oggi impegnata in 64 rappresentanze territoriali, è un richiamo alla speranza per una malattia dalle cause ancora sconosciute, ma con un fattore preponderante nella genetica e che in Italia colpisce circa 6.000 persone. Quest'anno, grazie alla vendita di 12.000 bottiglie di Barbera Dasti sul sito www.negoziosolidaleaisla.it, verranno raccolti fondi per l'operazione Sollievo, il progetto avviato nel 2013 che ha permesso di destinare 650.000 euro di donazioni all'assistenza delle persone COSLA e delle loro famiglie. Sanzioni in arrivo per i professionisti che non hanno la PEC, la posta elettronica certificata, addirittura in alcuni casi potrebbe scattare la sospensione dall'albo. Vediamo perché, con Alessandra Camarca. Sospensione dall'albo per il professionista che non comunicherà il proprio indirizzo PEC all'ordine di appartenenza. La posta elettronica certificata che consente a chi ne è in possesso di inviare un messaggio elettronico con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno è un passo fondamentale per spingere il Paese sull'innovazione digitale. È quanto prevede l'articolo 29 del decreto semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri a luglio e convertito ora in legge. L'obbligo di possedere una casella digitale verificata per avvocati, medici, ingegneri e giornalisti esiste già da dieci anni, ma finora non erano previste le sanzioni. Su un totale di oltre 2.300.000 professionisti, solo 1.783.000 risulta possederne una. A trainare sono i fiscalisti, gli avvocati, i notai, categorie obbligate quotidianamente a dialogare con i propri interlocutori pubblici solo con la PEC. Più indietro restano i professionisti che al contrario usano o meno l'identità digitale per lavoro. Per realizzare questo obiettivo viene introdotta una nuova sanzione nei confronti dei professionisti in addempienti. Per prima cosa si introduce l'obbligo di diffida da adempiere entro 30 giorni da parte del collegio ordine di appartenenza. In caso di mancata o temporanza alla diffida all'ordine, combina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale. Stadi di nuovo aperti al pubblico e campionato di Serie A, partito oggi, di nuovo con i tifosi sugli spalti. Accesso garantito solo a mille persone e solo negli impianti all'aperto. Ma è caos, come ci dice Federico Plotti. Si apre all'insegna delle polemiche questa prima giornata di campionato. Da un lato la Serie A, dall'alto il ministro dello sport Spadafora. Siamo stati lasciati da soli, nessuno ci ha mai interpellato, dice il presidente della Lega d'Alpino, denunciando una colpevole mancanza di dialogo da parte del governo con il mondo del calcio. E' chiaro che il mondo dello sport, a seconda della competizione, del luogo, indoor, outdoor, delle dimensioni dell'impianto, si augura che il prima possibile ci siano dei segnali in questo senso, per ovvi motivi. Sono ripartiti i cinema, le discoteche, i musei, ma non gli stadi, dice ancora d'Alpino, eppure già a luglio la Lega aveva presentato un dossier su come riaprire in sicurezza, ovviamente per un numero contenuto di spettatori. Quello che hanno deciso in questi giorni e in queste ultime ore in autonomia diversi governatori, dall'Emilia Romagna alla Lombardia fino al Veneto. E così tra oggi e domani alcuni stadi saranno aperti, ma solo per mille spettatori, tutti rigorosamente invitati. Non sarà così per il Bentegoti di Verona, che questa sera ospiterà la partita tra Ellas e Roma. Nonostante l'apertura decisa dall'ordinanza del governatore Veneto Zaia, resterà però chiuso troppo poco tempo per organizzare un ritorno, anche se è molto parziale. La sensazione è quella di navigare a vista. Forse sarebbe stato più utile prepararsi prima. Il tempo c'era, ricordando sempre che il calcio non è solo uno sport, ma anche un comparto che muove milioni di euro ogni anno e che dà lavoro a decine di migliaia di persone. Il 20 settembre di 150 anni fa le truppe italiane conquistavano Roma, mettendo fine al potere temporale dei pontifici e concludendo il processo di unificazione della nazione sotto in Savoia. Del significato e delle conseguenze per la politica e per il cattolicesimo della cosiddetta breccia di Portapia. Antonello Carvigianin ha parlato con alcuni storici. Sentiamo. La breccia di Portapia e la fine dello stato temporale costituirono un autentico shock per la chiesa e per i cattolici italiani e non solo italiani. Per decenni lo scontro tra lo stato e la chiesa abbelenò la vita pubblica italiana. Solo cent'anni dopo, il 20 settembre nel 1962, il Cardinal Montini, in una famosa conferenza in Campidoglio, doveva riconoscere che la perdita del potere temporale era stata provvidenziale per il papato. Nel breve e nel medio periodo, invece, la crisi del 1870 favorì nella chiesa un irrigidimento del modello antimoderno. Certamente il moto verso Roma provocò un'unità più forte attorno al papa e la crescita di una coscienza di chiesa più battagliera e militante, ma con un isolamento che non aiutò ad attrezzarla per le sfide della contemporaneità. L'invasione italiana di Roma, la fine del potere temporale, ritenuto essenziale per la missione del papa, l'incapacità di comprendere le moderne libertà, questioni che condurranno il mondo cattolico fuori dalla politica. In contrapposizione allo stato liberale, dovette, tra virgolette, rifugiarsi nella presenza sociale. Quella presenza sociale che era sempre più sollecitata dall'andamento dei tempi e poi dal 1891 dall'enciclica Reum Novarum. La presenza della chiesa dei cattolici e cominciava a essere massiccia anche la presenza dei laici cattolici e non solo del clero, consentì un radicamento sociale che sembrava invece destinato a svanire. Ma è proprio da Roma che inizierà la lunga marcia dei cattolici verso la vita politica. Nel 1877 si dà vita a un'associazione elettorale amministrativa di cattolici, l'Unione Romana, che nel giro di pochi anni, nel 1883, entrerà addirittura dentro la giunta del comune di Roma. Il teatro degli Arcimboldi di Milano riapre i propri spazi al pubblico e lo fa ospitando due mostre d'arte che saranno in programma fino al 13 dicembre. Le vediamo con Silvio Vitelli. Camminare dentro i dipinti abbracciando la bellezza all'interno di un'installazione maestosa come quella proposta al Teatro degli Arcimboldi di Milano, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni tridimensionali. Protagoniste le opere di Claude Monet, il più prolifico tra gli impressionisti francesi. Proiettori in alta definizione rendono le immagini quasi reali, pavimento, soffitto e pareti diventano arte. Un'esperienza immersiva che arriva in Italia dopo Corea, Belgio, Inghilterra e Spagna, ma il foyer del teatro riserva un'altra occasione, la mostra sugli artisti di strada. Un tipo di arte che nasce ed è pensata per gli spazi aperti e che proprio per questo qui incontra la luce naturale ad illuminarla. Il più famoso tra gli artisti esposti è senza dubbio Banksy che grazie alle sue opere irriverenti e provocatorie ha saputo diffondere messaggi di denuncia sociale e di protezione degli ultimi con un linguaggio diretto e sarcastico. Ecco dunque come un teatro in tempo di pandemia è capace di reinventarsi vista l'impossibilità di inaugurare una nuova stagione di spettacoli a celebrare l'arte sono arrivate queste due mostre. Per visitarle c'è tempo fino al 13 dicembre.